benvenuti certi telespettatori 724 europa vedete il nostro ospite la prima volta inaugura questo spazio si sente emozionato domenico zaccone no spero di no no grazie lei sono convinto che mi metterà a mio agio intanto buonasera tutti coloro che ci seguono non non cominci con i complimenti anche perché qui non siamo per per essere come dire accarezzati allora lei il coordinatore il portavoce di bussola italia innanzitutto le chiedo bussola italia che cos'è e poi la seconda domanda è se l'italia ha bisogno veramente di una bussola per capire quale direzione prendere bussola italia è un'iniziativa civica indipendente che è nata nel mese di marzo 2020 quindi in piena pandemia è un'iniziativa promossa da tre associazioni civiche che sono foro della meritocrazia sono civicum e sono associazione per il progresso economico più il sottoscritto e roberto adriani che facciamo quali sono i motivi che l'anno che abbiamo spinto a creare questa questa entità il motivo è molto semplice quando ci sono delle grandi discontinuità come covid è stato ed è ancora sono occasioni nelle quali bisogna darsi da fare per far fronte all'emergenza ma bisogna anche traguardare il futuro e nel traguardare il futuro abbiamo compreso che noi potevamo dare una mano alle istituzioni per aiutare il nostro paese a capire quali immaginare quali futuro dare all'italia e poi realizzarlo ecco allora vediamo subito un servizio per capire quali sono le misure che devono essere applicate in particolare per il contributo dell'unione europea sul tema chiave del settore industriale moving towards a greener europe means industries will need to adapt energy from coal and oil will need to be gradually replaced by green alternatives like solar and hydrogen technology will also play a vital role MEPs want more investment in research and development in pharmaceuticals and digital technology support for the transition to climate neutrality was laid out in the new eu industrial strategy but that was before the covid 19 pandemic adeguarla a quello che accaduto all'impatto profondo che questo ha avuto sulla società sulle imprese in particolare su quelle piccole e medie ed è per questo che nel rapporto teniamo conto di due fasi precise una fase di recovery e una fase di trasformazione in response to the impact of the pandemic MEPs are demanding that the commission revise its strategy first parliament wants to help businesses overcome the crisis whilst saving jobs and enterprises and then support them through the digital and green transitions MEPs want to make sure vulnerable small and medium-sized businesses are protected parliament is calling for a socially just transition for the industrial sector by investing in research and new technologies and re-skilling workers for jobs of the future Allora Zaccone abbiamo visto questo servizio ma in realtà Bursola Italia si occupa anche uno dei cardini diciamo delle pietre angolari e migliorare la qualità di vita dei cittadini allora qui c'erano alcuni inserimenti legati sia lo sviluppo industriale ma in particolare al cosiddetto Green Deal e alla sanità qual è la vostra posizione? Bursola Italia guardi non è nata tanto per prendere posizioni sulle idee sui contenuti pensiamo che ci siano già tante realtà realtà che prendono spazio sul nel fornire dei contenuti eh chiaramente noi proponiamo come modello di riferimento eh gli indicatori del Better Life Index eh di Ocse e eh quelli dell'ONU il Sustainable Development Goals che sono delle delle diciamo dei punti di traguarda traguardare però quello che ci differenzia in questo momento è che noi portiamo un metodo una governance e delle competenze gestionali perché sappiamo che anche le migliori idee se non hanno un metodo una buona governance e delle competenze gestionali poi non diventa realtà quindi riteniamo che eh oggi ci siano delle idee a partire per esempio dal Next Generation EU che ha immaginato il futuro dell'Europa eh però ci sia bisogno anche poi di trasformare in realtà questo è quello che noi ci proponiamo di fare abbiamo proposto alle istituzioni di fare ecco secondo lei l'Europa e soprattutto la politica è in grado di dare queste queste risposte perché bisogna avere delle idee ma poi bisogna perseguirle come giustamente lei diceva in maniera pragmatica e certe volte anche cinica eh noi non abbiamo fatto una valutazione diciamo delle competenze che sono in questo momento nel mondo della politica europee tanto meno italiane eh però mi lasci dire che eh sappiamo che il mondo della politica è particolarmente attento eh ad avere competenze di natura giuridica di natura tecnica eh di competenze gestionali ne abbiamo viste molto poche e eh a volte le competenze gestionali vengono considerate come buon senso ma per acquisire competenze gestionali manageriali occorrono diversi anni e come io non posso improvvisarmi a guidare un aereo un 19 perché non ho 1500 ore di volo non capisco come chi fa il professore universitario possa essere un gestore di un'impresa perché il nostro paese eh deve essere gestito con competenze gestionali non basta solo delle idee quindi riteniamo noi ci siamo offerti con questo spirito da da civil servant siamo una rete di importanti eh persone con competenze gestionali che ci siamo messi al servizio non ultimo eh devo dire che un tema a noi caro è il quello della della governance perché ehm non tutti sanno che la nostra costituzione prevede una governance istituzionale per traguardare il futuro del paese immaginarlo fare un piano realizzarlo questo è in mano a quattro persone che sono il presidente della repubblica che sono il presidente di camera e senato e il presidente dell'esecutivo del governo ecco noi abbiamo chiesto loro direttamente proponiamo che siano loro che si prendano cura affinché il paese abbia una direzione per il futuro e che poi venga realizzata questa direzione senta lei fra l'altro Bussola Italia ci tengono a dire che c'è un appuntamento con la storia riferito ovviamente a quelle che è il contrasto di fronte alla crisi pandemica e al covid 19 un appuntamento con la storia che ovviamente deve essere onorato al meglio voi giudicate sufficienti largamente sufficienti insufficienti o largamente insufficienti i prossimi passi e che cosa c'è da fare? noi abbiamo fatto due valutazioni finora del piano cosiddetto del recovery plan di versione di settembre e poi la versione diciamo dell'ultima del fine dicembre quella che è uscita nelle scorse ore l'abbiamo appena intravista la nostra valutazione è di appena sufficiente quindi chiaramente non è all'altezza secondo noi di questo momento storico che abbiamo l'abbiamo fatta non tanto prendendo come punto di riferimento le risorse economiche coinvolte come sono state allocate ma sette criteri che noi utilizziamo quindi riteniamo che mentre finalmente abbiamo una chiara visione di dove voglia andare il paese manca ancora il coinvolgimento dei cittadini perché questo è un piano come ci ha ricordato la commissione europea che non è un piano di un esecutivo di una parte politica ma è un piano di tutti i cittadini italiani che dovrà saper anche sostenere durare a cambi di legislatura che ci saranno tra due anni ci aspettiamo invece che la qualità della vita venga maggiormente inserita in questo piano perché non possiamo continuare a vivere solo di indicatori economico finanziari ma ci sono anche degli impatti sulla qualità della vita che vogliamo che queste importanti risorse possano sostenere e poi sul tema delle competenze gestionali ad oggi non c'è traccia viene proposto di coinvolgere diciamo quelle che vengono chiamate il corpo intermedio del paese ma è un termine devo dire troppo generale e che non diciamo chiama in gioco quelle che sono competenze gestionali eccellenti che abbiamo nel paese ecco voi esaminate anche il meccanismo fondo dei fondi che può costituire un modo importante per come dire arginare il tema della pandemia ed è certo che lo ribadiva anche un attimo fa forse questa scollatura fra la gestione della cosa pubblica e i cittadini è troppo forte ma sì allora intanto c'è un tema per cui dobbiamo far ritornare i cittadini ad essere protagonisti e sentirsi responsabili del loro paese e quindi questo diciamo che è un compito che noi abbiamo nei confronti dei cittadini perché non ci si può solo tirare indietro commentare e non mettersi in gioco e noi lo stiamo facendo in prima persona dall'altra parte le istituzioni chiaramente devono aprirsi e non mascherarsi dietro difficoltà burocratico complessità burocratiche perché gli strumenti poi si trovano e questo del fondo dei fondi per esempio può essere uno degli strumenti da utilizzare dove i fondi pubblici possono essere collocati all'interno di veicoli gestiti poi da privati veicoli che vengono chiaramente supervisionati da chi l'azionista pubblico inserisce soldi nel veicolo ma poi all'interno del veicolo ci sono competenze gestionali privati che sanno come fare poi accadere le cose insieme all'amministrazione pubblica e allora a proposito dei servizi c'è una novità che è stata appunto discussa all'interno del Parlamento europeo quello in qualche modo è solo a guardare proprio la qualità dei lavoratori attraverso un sistema di disconnessione e soprattutto con lo smart working di non sovrapposizione di quelli che sono gli obblighi ovviamente professionali e di lavoro con quelli che sono gli impegni privati vediamo il servizio Si il need for a right to disconnect without facing repercussions was already present, it's been underscored by the COVID-19 pandemic. The timing is more right today because the prevalence of teleworking, the prevalence of smartworking, flexiworking is being felt more right now. In 2020, more than one in three Europeans began working from home. That means the boundaries between professional and private life get blurry. People working from home often work longer and more irregular hours. Always being reachable can affect work-life balance and physical and mental health. Currently, no EU legislation explicitly states that Europeans have the right to disconnect without repercussion. MEPs want to put an end to the always-on culture and have switching off recognized as a fundamental right. Saccone, disconnettersi però dai terminali, dagli impegni lavoro non vuol dire disconnettersi dagli obblighi che abbiamo come cittadini. Insomma, anche noi dobbiamo in qualche modo stimolare la politica che faccia meglio perché se la politica poi non si sente pungolata magari pensa o suppone che tutto vada bene, ma non è così. Sì, lei dice molto bene perché c'è troppo questa cultura e pensiero dello Stato e noi cittadini. Noi cittadini siamo lo Stato e quindi dobbiamo ritornare ad assumerci responsabilità e ad essere coinvolti e consapevoli. E la consapevolezza non è solo dovuta da parte dello Stato nei confronti dei cittadini, ma deve essere anche reciproca. E devo dire che nelle grandi città dove molti di noi ormai vivono questo non è semplice, ma se lei va in paesi come quelli dove sono nato io che è un paese più o meno di 3.000 abitanti, si chiama Camponiure, in questi paesi ogni cittadino si sente responsabile del proprio luogo dove vive e della qualità del luogo dove vive e fa sentire la propria voce. Ecco, bisogna tornare a partecipare alle istituzioni il compito di rendere questa partecipazione fruibile per cui accessibili le informazioni, trasparente che cosa si vuole fare, come lo si vuole fare. Penso che questo sia un modello di partecipazione al quale dobbiamo ritornare, che dobbiamo recuperare e noi abbiamo anche questo compito come Busso d'Italia. Senta, visto che lei viene da un territorio ricco, florido, ma inesorabilmente critico, lei si comporta come tutti i genovesi che ha il mugugno in questi frangenti, oppure è ottimista sul futuro e sulle speranze che come dire si possa dare una risposta e ovviamente la speranza c'è sempre, ma poi bisogna trasformarla in realtà. Sì, il mugugno è tipico dei miei amici e compaesi in Ligure e Ginovesi, però lei sa bene che noi siamo persone che poi girano il mondo, io ho fatto così, quindi anch'io sono evoluto dal mugugno a diventare una persona che è andata a esplorare il giro per il mondo, per il lavoro e il mio mestiere è quello di raccogliere dei sogni, dare dei sogni e realizzarli, perché come dice lei, lamentarsi non serve e non basta, è importante dare dei sogni, dare un futuro, però l'importante è realizzarlo affinché il futuro non sia solo una chimera e non sia una delusione. Ecco, questo è un altro compito di Busso d'Italia, quindi aiutare a dare un futuro, una visione e poi realizzarla, perché attraverso la realizzazione poi di quello che uno immagino desidera ne deriva tanta motivazione e tanta voglia per poi rimettersi ancora in gioco. Questo è un meccanismo virtuoso che il nostro Paese ha innescato solo nel 1947 con il famoso piano Marshall, ma a quel momento non c'è stato più un'occasione in cui l'Italia abbia riproposto una visione del futuro, oggi invece questa occasione c'è, ripeto, nel piano di recovery plan c'è una visione del futuro, adesso sta a noi riuscire a realizzarla e questo noi non è solo nelle istituzioni, ma in tutti noi cittadini, perché il piano, ripeto, è un piano che impegna i cittadini italiani, così ci ha detto la Commissione europea quando noi l'abbiamo incontrata recentemente, perché sarà importante che questo piano sopravviva ai cambi di legislatura, è un piano che durerà 5, 6, 7 anni e quindi nessun esecutivo potrà essere il garante, ma dovranno essere le quattro istituzioni che ho citato prima e i cittadini stessi. Mi piace questa cosa perché abbiamo scoperto, fra l'altro ce l'ha rivelato lei, essendo di Campoligure, insomma, che sta un po' a metà strada fra Genova e il Piemonte, che come tutti sanno quando tutti in cammini da Via 20 Settembre, arrivi in Piazza dei Ferrari, se vedi sulla sinistra quella bandiera della Superba, la vedi perché c'è grande consapevolezza nei genovesi e nei Liguri di andare lontano, cioè vuol dire il padre Cristoforo Colombo aveva un'idea e fra l'altro la provate tutte per trovare la maniera da Madeira fino all'Islanda di andare nel minor tempo possibile, quindi l'importante è avere l'idea, l'importante è avere un progetto, l'importante è avere la determinazione, il coraggio, la volontà e anche la fortuna, perché se il 2 di gennaio del 1492 i re cattolici non avessero, come dire, allontanato i Mori con la battaglia di Granada, forse Cristoforo Colombo non avrebbe avuto i fondi per raggiungere lì. Diciamo che vede che gennaio del 1492, questo periodo del 2021, forse per trovare i fondi è il momento migliore del mese. Sono d'accordo con lei, grazie per avermi puntualizzato questa cosa, non l'avevo realizzata e mi dà un motivo in più per dare propulsione a questa nostra iniziativa che ha già coinvolto oltre 6 associazioni in Italia, a partire da Inclusione Donna, attraverso anche Officine Italia che rappresenta il mondo dei giovani e anche oltre 3.000 direttori del personale attraverso la loro associazione di categoria. Allora, dico a lei in maniera molto seria e a Bussola Italia che qui troverete sempre posto, perché trovano posto, trovano luogo, trovano alleanza, trovano comunicazione, perché è importante farlo sapere ai cittadini che ci stanno seguendo quali sono le realtà che si stanno battendo e stanno lottando con decisione, determinazione e grande volontà per ottenere risultati. Quindi qui ci troverà sempre, insomma, in ogni carruggio della televisione italiana, diciamo. Io la ringrazio, ringrazio chi ci sta seguendo e se ci invitate ancora, noi sicuramente saremo lieti di venire a trovarvi ancora per aggiornarvi. Molto volentieri, sarà fatto. Grazie per essere stato con noi. Fra poco vedremo il servizio invece sul tema della salute, gli investimenti nel settore della salute dell'Unione Europea. Grazie che ci ha seguito e ovviamente alla prossima edizione 724 Europa. Arrivederci. As the coronavirus pandemic began sweeping through Europe, Bergamo was one of the first cities to be inundated by COVID-19 cases. Its hospital and healthcare workers were stretched to breaking point. I posti di unità intensiva sono stati aumentati dai 65 che abitualmente avevamo a oltre 100 posti, utilizzando le recovery room delle sale operatoria e tutti gli spazi potenzialmente utilizzabili. Dal punto di vista tecnico, noi viaggiavamo abitualmente sui 150-160 litri di ossigeno per ora. Nel giro di una settimana siamo arrivati a 680. The pandemic highlighted weaknesses in healthcare systems across the EU. Today, the hospital is better prepared for the second wave and treatments for COVID-19 patients have improved. The European Parliament wants the new EU for Health programme to be ambitious and ensure European systems can face future health threats, address medicine shortages, focus on disease prevention and promote well-being. The EU citizens should welcome this programme because this will improve the resilience of the healthcare systems in the Union by reducing health inequalities, by promoting digitalisation, by giving support to the European Commission for EU beating cancer plan, for instance. MEPs want EU for Health to improve cooperation between EU countries to better deal with future crises. Noi sappiamo che la regionalizzazione della sanità ha molti vantaggi ma anche molti svantaggi. In situazioni come queste più che delle ordinanze serve una politica centrale comune sui principi generali.